fa che io cerchio k attraverso marco a cura di vb frate bernardo altissimo signore fonte sublime del tutto a te la gloria la giustizia la misericordia la potenza la coscienza l'amore la saggezza l'equilibrio ed ogni manifestazione di ordine di conseguenzialità tutte le cose si manifestano in te ritrovando se stesse tutti gli esseri si manifestano in te raggiungendo ciò che mai si mosse e spostandosi senza spazio e muovendosi senza tempo attraverso alla tua realtà giungerò a riconoscermi e a riconoscerti e a scoprire quanto assurda sia la dualità che ora ho pronunciato scoprirò così che non ho fatto altro che trovare in me stesso la materia con la quale ho costruito mondi esperienze esseri mai oggettivamente esistiti e così reciprocamente hanno fatto gli altri anch'essi mai veramente esistiti nella mia coscienza insufficiente e quindi distratta aiutami a comprendere questo e ad essere questo messaggio in mezzo ai miei fratelli se sono figlio fammi amare i miei genitori fa che io costruisca la loro esistenza intorno a me positivamente a ciò che non soffrano loro e non soffra io se sono amante fa che ami intensamente e teneramente ma solo se sento che quest'amore promuovi me la podissi della coscienza la crescita la identificazione progressiva col vero me stesso fa che io non ami per vizio e che l'altro sia cosciente che il mio amore è un dono come anche per me il suo ma fa che io non lo manifesti a lui come tale ma come un'esigenza del mio vero essere fammi uno con l'altro e fa che questo amore raggiunga tutti i miei fratelli a ciò che anche l'atto più fisico divenga l'atto più spirituale e fa che gli atti che io credo essere più spirituali in base ad errati ma ancora troppo veri pregiudizi siano veramente tali siano veramente sentiti e siano veramente compiuti come atti altamente spirituali vissuti spiritualmente continua e 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